Sarebbero partite oggi le votazioni delle rappresentanze unitarie e sindacali 2022 nel comune di Caltanissette e per i prossimi tre giorni i lavoratori avrebbero potuto esprimere le loro preferenze, ma non è andata così. Al centro di una divergenza tra la funzione pubblica CGL e l'amministrazione del comune nisseno, la circolare 1 del 2022 dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che riguardano il rinnovo dell'RSU. Elezioni che avrebbero avuto luogo 5, 6 e 7 aprile e che fornisce chiarimenti sullo svolgimento delle elezioni stesse e così oggi, con una nota diffusa alla stampa, il segretario generale della funzione pubblica CGL, Angelo Polizzi, ha invitato il comune ad attivarsi per garantire il diritto al voto di tutti i lavoratori del comune di Caltanissetta. Come vorrebbe la circolare all'articolo che richiama i compiti delle amministrazioni spiegando che l'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Intanto spiega il segretario generale Francesco Liotta e richiama la stessa circolare che l'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della commissione stessa. Ed aggiunge Noi abbiamo messo a disposizione la sede. La tre giorni si poteva effettuare da stamattina nella sala Sturzo. Una volta predisposto il luogo per il resto, ovvero insediamento e costituzione formale, è un'attività propria degli organismi sindacali, come dice la circolare.